Salve a tutti e grazie di essere qui stasera. Sono Lisa, la responsabile e direttrice artistica della scuola Universe Dance. Scusate, sono molto emozionata, ma questo non ostacola il pensiero che voglio esprimere verso tutte le persone speciali che voglio ringraziare di vero cuore. Prima di tutto un grazie a vari insegnanti che con professionalità e passione hanno portato i nostri allievi, figli, nipoti a raggiungere risultati eccellenti. Sono davvero fiera del mio staff. Ringrazio tutti gli allievi che mille volte hanno sentito quei numerini, 5, 6, 7, 8, che gli resteranno dentro spero per sempre. Tra gioie e dolori, tra sudate e cadute, avete imparato tanto anche quest'anno e ciò che importa è che non dimenticherete questi momenti passati insieme. Li custodirete dentro voi come un tesoro e un giorno capirete che non avete danzato su una qualsiasi musica, ma su quella che parla al cuore. Ringrazio le persone speciali che hanno collaborato per realizzare questo spettacolo e soprattutto ringrazio tutte le mamme dei miei splendidi ragazzi che anche nei momenti difficili mi hanno sostenuta, donandomi la loro fiducia e il loro affetto. Per queste persone e per tutti coloro che hanno contribuito ad accrescere il prestigio dell'Universe Dance, chiedo un applauso a questo meraviglioso pubblico. Grazie di vero cuore, grazie per tutto ciò che mi avete dato, per ciò che siete stati, per tutto quello che la musica, la danza ed io vi abbiamo donato anche quest'anno. Buone vacanze e al prossimo anno! POP DANTHOLOGY 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 POP DANTHOLOGY